Happy day, oh happy day, oh happy day, it's all we are, oh oh oh, fire and pray, fire and pray. Benissimo, buonasera, buonasera e benvenuti al saggio della Bottega del Sonno, va chiedendo a musicare Bottega del Sonno, un saggio un po' particolare, il saggio di Natale consueto della Bottega, ma non siamo in teatro, siamo proprio alla Bottega del Sonno. Il titolo è molto particolare, Babbo Natale è uscito dal gruppo, questo è scaturito dalla mente vulcanica, dalla fantasia di Maria Sofia Cirillo, vedremo, ecco qui siamo nella regia dello studio, dove vedete alle mie spalle ci sono i vari partecipanti naturalmente al saggio, sono già pronti, saremo per questa prima serata insieme ma anche domani, domani inizieremo un'ora prima alle 17. Io vorrei salutare però Marcello Cirillo perché alla fine è lui il responsabile di tutto, ecco Marcello, eccoci qua. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Allora facciamo un'anteprima rapida di questo saggio. Allora, innanzitutto benvenuti al nostro canale YouTube dell'Accademia musicale Bottega del Suono. Babbo Natale è uscito dal gruppo, questo è il titolo uscito dalla mente fervida di Maria Elisa Cirillo, volevo ringraziare te Alessandro, ringraziare la regia Alberto Maria Trabucco, tutti i ragazzi che tra un poco si esibiranno. Io sono già su YouTube, siete già in tantissimi, ci divertiremo molto spero e mi raccomando di chattare sul gruppo perché i ragazzi vedono i vostri commenti. Bene, io direi di iniziare. E dici, iniziamo. Iniziamo dalla prima? Dalla prima. Andiamo in ordine? Andiamo in ordine. Andiamo in ordine, allora c'è Gaia Ciamacco che con il suo violino ci farà ascoltare Jingle Bells in piena atmosfera natalizia. Vai Gaia! Buon Natale e buon divertimento. Buon Natale! Buon Natale! In chiusura di questa prima parte del saggio dell'Accademia musicale del Suono ecco il boss, è lui, è lui! Grazie, ho complimenti Alessandro, sei stato bravissimo, sei sempre la voce, cioè questo personaggetto qua è la voce di Sorario, quindi noi abbiamo l'onore di avere avuto come conduttore del primo saggio natalizio il grande Alessandro De Gerardi. Bene, ci ritroveremo anche domani, arriverò un po' in ritardo domani. Domani quindi che faccio? Comincio io? Cominci tu, cominci tu. Ringrazio tutti gli allievi, sono stati bravissimi, soprattutto anche gli insegnanti sono stati molto bravi, molto presenti, mi hanno aiutato tantissimi, ho fatto il lavoro un po' sporco, quello dietro del tecnico e voglio ringraziare alla regia Alberto Maria Trabucco, i cameraman Alessandro Petrarolo, Daniele Mantovani, alla regia invece fonica Andrea Petrarolo e poi e poi e poi e poi mi pare che ho ringraziato tutti, un sacco di gente, è stata un'esperienza bellissima, d'altronde io volevo onorare in qualche modo il lavoro fatto dei nostri allievi e soprattutto dei nostri insegnanti. Ringrazio Antonella Alberici, Maria Elisa Alberici, Maria Elisa Cirillo, Maria Sofia Cirillo per l'organizzazione e per la creazione di questo bellissimo saggio e ringrazio te. Grazie a te e domani si ripete. Alle 17 qui sempre sul canale YouTube Accademia Musicale Bottega del Sono. Ciao domani, ciao, grazie.